il covo di medusa che poi questo ovviamente è esclusiva del gioco visto che nel film medusa si vede proprio per un istante e via il punto è che non mi ricordo cosa dobbiamo fare c'ho meglio forse c'ho un mezzo ricordino cioè mi ricordo aia ma dai e scusami come cacchio le devo evitare come li devo evitare che sono dappertutto ecco qua ecco qua questo me lo ricordavo non mi ricordavo no occhio ma dai da dove sono arrivati ok qua mi sa che purtroppo ci muoio eh sì mi sa che ci muoio perché non so come evitare questo colpo qua allora devo essere onesto sono andato un attimo a vedere su internet come si fa a evitare medusa e non c'è un vero e proprio modo per evitare il modo più facile fare destra e sinistra leggero così fine c'è voglio essere onesto non voglio dire che alla fine l'ho fatto io se ho bisogno di un attimo di una mano lo dico e basta nel senso ti teniamo d'occhio non faccio lo sgargiulo solo per potermene vantare ma dai l'avevo evitatissimo era lentissimo il colpo di medusa in pratica ecco qua oh finché non fa l'attacco culata a me va benissimo qualunque attacco tu faccia medusa davvero ecco appunto a parte questo possibilmente che è un filo imprevedibile no dai i tempismi della mossa però che cavolo veramente allora qua dobbiamo aspettare dai ma scusami no qua è colpa mia dovevo muovermi subito eh certo dai non è possibile qua non l'ha preso lui ma che stronzo ma scusami non è possibile che tanto così di pixel non lo riesci a prendere ma veramente ok a sto giro abbiamo preso molti meno danni e ci abbiamo avuto letteralmente molta meno difficoltà con le mosse che ha tirato fuori eh vabbè il vero problema è il tempismo di sti scheletri del cavolo perché se loro stanno già attaccando tu non riesci a colpirli a volte dai medusa mancano ormai esatto solo due scudi e il gioco è fatto per te è finita eh per te è finita per noi è finita tra poco buonanotte se non ti curi ultimo colpo ecco qua che poi senza colonne sto posto io non so come faccia a reggere addio medusa buonanotte vabbè ecco qua non era un livello difficile mi sono fatto cogliere di sorpresa purtroppo vediamo però quante monete secondo me abbiamo fatto il 70% ah l'85 dai principiante addirittura bravo c'era il 70% il 70% c'era